Bella a tutti ragazzi, qui Logic Virtual e oggi vi presenterò questo nuovo glitch di DieRice Black Ops 2. Per prima cosa recarsi verso l'ascensore, anzi dentro l'ascensore e saltare fin quando precipita. Ora proseguire in avanti, dopodiché sbottarsi subito a destra. Ora saltate e vi dovete posizionare esattamente dove mi posiziono io per eseguire al meglio il glitch. Questo glitch è un barrier glitch che non funziona molto bene, cioè vi attaccano certe volte i zombie ma comunque è molto funzionale ed è molto utile. Allora vi faccio vedere come si bloccano davanti a voi senza attaccarvi o meglio quasi mai attaccarvi. Ecco come vedete già si è accumulato uno, due, ci sono accumulati due, tre, quattro, insomma fra un po' vedrete che li ucciderò. Comunque questo glitch è stato scoperto dal nostro capo clan e crediamo di essere i primi ma non ne siamo certamente sicuri, certamente sicuri certo. E se il video vi è piaciuto scrivetevi, commentate e mettete mi piace mi raccomando. Ciao!